Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che sarà un video vlog, più che altro un weekly vlog perché voglio registrarvi un po' di giorni, insomma, quello che faccio, delle cose carine dato che siamo in tema feste, che tra un po' sarà Natale, mi piacciono molto gli addobbi, le decorazioni anche che ci sono nelle città, nei centri commerciali, quindi insomma, voglio portarvi un po' in giro con me e farvi vedere, non so, cose carine, così insomma, e quindi adesso sono in macchina, sto aspettando mia mamma che andiamo a fare un giro e vi porto con me, oggi così, poi altri giorni insomma, vediamo che cosa fare Ciao a tutti Ciao a tutti Come avrete capito sarò da Zara, ho fatto un giretto, infatti vi ho fatto vedere qualcosa però adesso ho preso qualcosina da provare, cose molto basic, vediamo se mi piace qualcosa, ve lo faccio vedere Primo outfit che non mettere insieme, ovvero questo maioncino bianco, che sincera penso di prendere perché mi piace tantissimo, ha le maniche larghine, è un po' crop, però io mettendo poi i pantaloni a vita alta cioè ci sta, adesso questi qua che ho preso sono dei cargo che sto provando che le ho presi di una taglia in più perché mi piace portarli un po' più a vita bassa e sono questi qua ma è carini, però non so se sono tanto adatti per adesso che comincia a fare freddo e effettivamente sono uguale a due paia di jeans che ho già, quindi non so bene questi se prenderli e poi vi faccio anche vedere i pezzi che vorrei provare, ovvero questa maglia qua che è molto basic, non si vede dalla luce che c'è in questo camerino ma una è nera grigia ovvero questa e questa è più tipo blu, blu jeans e allora maioncino penso di prendere, il pantalone penso che lo schippo perché volevo anche andare a fare un giro da Primark e ho visto che è uscita la collezione di Rita Ora, magari è rimasto qualcosa ma no, me la compro io o grigio qua ci sono un po' di cosine di Rita Ora però oggi è veramente pieno quindi non so se riesco a registrarvi qualcosa è stra 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 pieno fidatevi che non rende è proprio pieno 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 e qua ci sono tutte le cosine di Rita Ora proprio qua appena si entra infatti adesso do un'occhiata dalle ultime clip è passato un po' di tempo però rieccomi adesso sto per uscire con mia mamma che vi volevo portare ai mercatini di Natale insomma facciamo un giro vi faccio vedere un po' di cose carine e in teoria dovrei andare anche a mangiare un hamburghetto quindi se lo mangio ve lo faccio vedere e volevo anche dirvi che ho preso qualcosa da Primark qualcosa da Zara e anche qualcosa insomma per decorare qui alle mie spalle ovvero ho preso questi stencil che sono stupendi guardate un po' che belli con la neve finta la neve finta spray infatti adesso ve la faccio un attimo vedere e oltretutto vi faccio vedere anche il bustone di Primark non ho preso tantissima roba però è molto carina sono molto carina le cosine che ho preso infatti penso di farvi un video alla parte neve finta l'ho presa di due tipi qua c'è la busta di Primark e dentro c'è anche la busta di Zara oltretutto vi spoilerò perché la voglio assolutamente mettere a posto ho preso la carta regalo del Grinch ma guardate che bella è stupenda ho trovata da Primark meravigliosa non mi sembra molto resistente perché mi sembra proprio tipo carta di solito è carta plastificata quella che compro però vedremo quando farò i pacchi allora neve finta ne ho preso di due tipi ho preso questa ho preso due diverse una costava un po' più dell'altra ma io l'ho preso tutte e due questo mi sembra che abbia un getto un po' più carino di questo perché l'ho provato in negozio su un pezzo di cartone e non vedo l'ora di fare le decorazioni comunque se siete curiosi di vedere quello che ho preso mi raccomando iscrivetevi al canale e guardate poi il video haul che sicuramente in questi giorni registrerò perché non vedo l'ora di mostrarvi quello che ho preso anche se vi dico non è nulla di che però sono molto contenta adesso esco e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so perché ma più della metà delle casette sono chiuse, quindi bocciato. Sono appena tornata a casa, ho messo i pantaloni del pigiama, quindi scusate per stare più comoda perché ho messo un telo per terra, non so mai se si vedrà da qua, ma sì, eccolo lì. Perché voglio andare a fare gli stencil con la neve finta e poi vi faccio vedere il risultato, vediamo un po' come viene. Scusate la mise, come vedete ciabatta e pigiama e sopra sono ancora vestita come prima, ma secondo me è venuto molto carino, guardate qua ho fatto un casino per terra, lasciate perdere. Diciamo che tipo quei pinguinetti non sono venuti tanto bene, non lo so perché, perché anche quelli non sono venuti bene ed è lo stesso foglio. Non capisco come mai o è stata colpa mia perché è la prima volta che lo faccio sinceramente, fatemi sapere se voi avete già usato la neve finta, io no. Poi niente, ho fatto tipo delle palline di neve finte, tipo spiaccicate, i pallini insomma che vedete, i cerchi e niente dai, mi piace, è molto carino. Ma sì dai, secondo me è molto carino, guardate dietro, cioè ci sta secondo me, è molto molto carino. Non è venuto perfetto, però vabbè ci sta, come prima volta non è andata male. Io direi che concludo qua questo vlog e niente, ci vediamo alla prossima, mi raccomando seguitemi se volete vedere poi il video di Primark che tanto registro ora in questi giorni, non vedo l'ora. E quindi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!